Siamo davanti ad un qualcosa di molto, molto grande che sta avvenendo in Giamaica. Abbiamo visto che anche proprio la stampa giamaicana doveva accettare ormai che c'era questo fermento, c'era questo tumulto, noi proviamo ad immaginarci proprio questi profeti che nei ghetti annunciavano che finalmente stava per arrivare il Redentore, che questa volta sarebbe stato chiaro a tutto il mondo che non era biondo con gli occhi azzurri, ma era un africano. Avrebbe liberato in primis gli africani e poi il mondo intero. Quindi il Redentore che le profezie annunciavano, Isaia, Ezechiele, Geremia, il profeta Daniele, stava per arrivare e sarebbe venuto innanzitutto per liberare prima il suo popolo, il nuovo Israele, che erano gli africani, perché non a caso gli africani erano stati deportati in una terra straniera così come Israele era stato deportato in Egitto. Gli africani erano stati schiavi e gli africani si identificano quindi nel nuovo Israele e il Messia arriverà come il liberatore, proprio come dicevano le Sacre Scritture e le profezie. Libererà prima Israele e poi il resto del mondo. Sarà una redenzione universale ma che dovrà partire dal popolo di Israele, dal Black Israel, che farà ritorno ad un certo punto in una Black Zion, in una terra promessa che è l'Etiopia, il nuovo Israele. La stampa nel 1924, il Daily Cleaner, giornale famosissimo in Giamaica, forse il più importante, annuncia proprio che ci sono delle pubblicazioni di Ethiopian Religion, di religione etiopica, che ovviamente non si sapeva bene a cosa alludessero. Quest'Etiopian Religion erano proprio questi movimenti battisti, questi movimenti etiopianisti, perché non esisteva una religione etiopica. Quindi sta parlando proprio dei movimenti etiopianisti. The Holy Peeby, questo libro che viene scritto da Robert Atlee Rogers, che viene sottotitolato come The Black Man Bible, The Holy Peeby è un altro libro fondamentale di questo momento, di questo periodo in cui si annuncia proprio l'imminente arrivo del Messia. Nel 1926, quindi facciamo anche attenzione alle date, abbiamo parlato del 1924, il Daily Cleaner annuncia che ci sono le religioni etiopiche in Giamaica, sempre nel 1924, The Holy Peeby. Nel 1926 c'è un altro documento che esce, scritto da Reverend Ballantine, e si chiama The Royal Parchment Scroll of Black Supremacy, un altro testo che annuncia che il Cristo nero sta per arrivare. Quindi siamo negli anni venti del ventesimo secolo, un momento cruciale, un momento rivelatorio. Ricordiamoci che nel 1916 Marcus Garvey lascia la Giamaica e Garvey prende una decisione, si distacca dai movimenti più spirituali e prende una direzione molto più pratica, molto più sociale, molto più politica. Quindi il Garveyismo, i Garveyiti, non sono dei predicatori. Il Garveyismo non è un movimento spirituale. Nel 1930 avviene qualcosa che scuote la Giamaica, scuote il mondo intero. Nella cattedrale di San Giorgio, la più antica, la più importante della capitale etiopica di Addis Ababa, la mattina del 2 novembre del 1930, Rastafari Maconnen, che era il regnante d'Etiopia, e sua moglie, Wazero Menen, vengono incoronati. Rastafari Maconnen prende il nome nuovo di Ailes Elassi I, che sta a significare, tradotto dall'amarico, il potere della Santissima Trinità. Viene incoronato secondo un rituale antichissimo che proprio ci riporta ai tempi di Samuele, di Davide, delle unzioni dei re biblici, e prende i titoli di re dei re, signore dei signori, leone conquistatore della tribù di Giuda, eletto di Dio, luce del mondo. Questi titoli, che sono i titoli del Cristo, decorano il suo nome, si accostano al suo nome, e vengono affidati a lui proprio dalla chiesa ortodossa etiopica. In una cerimonia, appunto come abbiamo detto antichissima, il re dei re, Ailes Elassi I, prende la corona, viene unto con una miscela di oli sacri, di sette oli sacri, secondo le procedure bibliche, viene unto. Il trono che lui va a prendere non è un trono qualsiasi, la monarchia di cui lui diventa capo non è una monarchia qualsiasi, e infatti è il 225esimo discendente diretto da Davide e Salomone. Della tribù di Giuda, della dinastia da cui discende anche Aiasos Cressos, Gesù Cristo, e da cui le profezie ci dicono proprio che sarebbe dovuto discendere il Messia. Quindi la stirpe di Ailes Elassi I è la stirpe del Messia. Lui è un discendente diretto, senza interruzione, da Davide e Salomone. La notizia dell'incoronazione di Sua Maestà Imperiale Ailes, l'assiprimo, avvenuta in Etiopia, nella cattedrale di San Giorgio 2 novembre 1930, fa il giro del mondo. Anche National Geographic vi dedica un intero servizio, e non solo, c'erano stati anche degli invitati. questi invitati erano europei, dignitari, re, principi, ambasciatori europei, che si erano recati proprio, erano stati invitati, ospitati, da Sua Maestà stesso, per prendere parte all'incoronazione. Questa incoronazione, quindi, fa il giro del mondo. La notizia arriva anche nell'isoletta, in mezzo al Mar dei Caraibi, che conosciamo come il nome di Giamaica. Ora, piccola parentesi. In Giamaica, le persone conoscevano la Bibbia molto, molto bene. Alcuni non sapevano né leggere né scrivere, ma conoscevano la Bibbia a memoria. C'era proprio un'identità cristiana, come abbiamo visto, African Christian, Black Christians, protestante, battista, molto, molto, molto forte. Quindi, quando arriva in Giamaica, questa notizia, che un re nel paese d'Etiopia, attenzione, Etiopia, e già questo dice qualcosa, alle orecchie proprio dei giamaicani, perché abbiamo visto l'etiopianismo, Ethiopian Baptist Church, il nome Etiopia, era già molto, molto conosciuto, era, era mitico, era, era un qualcosa di incredibile, eh? Quindi, quando il re d'Etiopia diventa l'imperatore d'Etiopia, e prende questa corona antichissima, e diventa il, 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 il negus anegast, ovvero il re dei re, diventa l'imperatore di questo impero, che era l'impero più antico, l'impero cristiano più antico del mondo, e sedeva ora sul trono di re Davide, re Salomone, e non solo, prende anche questi titoli, che sono i titoli del Cristo, di cui il libro dell'Apocalisse, il libro delle rivelazioni, ehm, affida il Cristo, questi titoli, il re dei re, il signore dei signori, il leone conquistatore della tribù di Giuda, il libro dell'Apocalisse, al capitolo 5, verso 5, ci dice proprio, non piangere più, perché, ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il leone della tribù di Giuda, e chi è l'unico al mondo che ha questo titolo? Adesso è proprio lui, Ailes Lassi I. questi cristiani in Giamaica sapevano che il Cristo, quando sarebbe tornato, sarebbe stato il leone, il leone conquistatore della tribù di Giuda, avrebbe avuto questo titolo, avrebbe preso proprio questi titoli di re dei re, di signore dei signori, e soprattutto sarebbe stato proprio il regnante di David, doveva discendere da David, e quindi cosa accade? Che cosa accade? Accade che un gruppo di cristiani, di uomini cristiani, incominciano a ricercare nelle sacre scritture se veramente, veramente, se è possibile che questo imperatore sia soltanto un semplice re o se ci sia invece qualcosa di più mistico. È possibile che Ailes Lassi I d'Etiopia sia il Cristo ritornato nei suoi caratteri regali? È possibile che stiamo assistendo al compimento delle profezie di cui ci hanno parlato millenni di Bibbia? È possibile che nella terra d'Etiopia, che è il nuovo Israele, dove tra l'altro risiede l'arca dell'alleanza, ora venga incoronato finalmente il Messia nel suo ritorno? Queste persone incominciano quindi a fare un po' un collaggio di pezzi, si tuffano in maniera coraggiosa anche nelle sacre scritture. Avevano già una conoscenza cristiana, avevano già una conoscenza spirituale, ma soprattutto erano anticoloniali, erano uomini anche abbastanza giovani, non erano anziani. E li descriveremo adesso meglio per capire anche che tipo di personaggi erano. erano il frutto della nuova generazione di africani discendenti, nati già quando l'abolizione della schiavitù era avvenuta, quindi nati come uomini liberi, però in un contesto con un forte razzismo, con un forte svantaggio per gli africani deportati. Quindi hanno un grande, un grandissimo spirito anticoloniale, di liberazione. Questi personaggi, che noi ricordiamo, con il nome di Leonard Howell, di Heinz, di Joseph Hibbert, di Archibald Dunkley, erano tutti quanti distanti l'uno dall'altro, o quantomeno. Leonard Howell, Robert Heinz, erano distanti, però giungono alla conclusione in maniera indipendente, e poi soltanto dopo si confronteranno tra loro, giungono alla conclusione che Ailes Lassi I è il Messia ritornato sulla Terra per la seconda volta, per regnare sul trono di Davide e per redimere l'umanità. Quindi è il compimento delle profezie. Nasce il movimento Rastafari. Siamo nei primissimissimi anni, forse mesi, degli anni 30. Che cosa succede? Succede che questi personaggi, che erano appunto degli ex garbeiti, quindi erano delle persone anche indipendenti, a livello di pensiero. Non erano quei giamaicani che erano stati, come dire, europeizzati, termine che non esiste, ma per renderci conto. Erano stati, no? Erano stati fatti diventare quasi più europei degli europei per servire il sistema. non erano quel tipo di giamaicani. Erano dei ribelli. Erano degli ex garbeiti. Non solo, erano dei viaggiatori. Avevano viaggiato. Leonard Owell era stato in giro per il mondo, perché si erano arruolati. Erano stati a Panama. Conoscevano altre culture. Quindi c'era questo, c'era l'incontro dell'animo spirituale, cristiano, e di quello anticoloniale. Questi due aspetti erano fusi e combaciavano in maniera perfetta nelle persone proprio di questi primi rastafari, di questi patriarchi rastafari. Abbiamo pochissime informazioni riguardo a loro, purtroppo. Poche, poche informazioni. Sono state anche perse, distrutte anche a causa delle varie persecuzioni che il movimento rastafari ha dovuto subire. Leonard Owell, che ricordiamo che spesso viene citato come il primo rastafari, e che magari è stato il primo ad aver, diciamo, rivelato in maniera pubblica la divinità di E.L. Selassie I, però sicuramente a livello di importanza lo poniamo sullo stesso piano anche di Dunkley, Hibbert e Hines. Leonard Owell produsse tanti documenti, aveva tanti diari in cui lui scriveva proprio le sue teorie, le sue visioni, le sue meditazioni spirituali, però purtroppo sono stati distrutti dalla polizia giamaicana durante i vari raid, ma di questo ne parleremo più avanti. Quindi, che cosa fanno? Tutti quanti questi personaggi si trovano a tornare in Giamaica, quindi nel 1930, e incominciano a predicare la divinità di E.L. Selassie I. Fondano dei gruppi separati, ma questi gruppi separati predicano la stessa cosa, che E.L. Selassie I d'Etiopia è il Messia, ritornato nei suoi caratteri regali, è il Cristo nella sua seconda venuta, proprio perché la Bibbia diceva anche questo, che il Cristo sarebbe dovuto tornare una seconda volta, questa volta non come un agnello per il sacrificio, ma sarebbe tornato come il leone conquistatore della tribù di Giuda. Non sarebbe stato un maestro, un rabbi, ma sarebbe stato un re, un regnante, un liberatore spirituale e un liberatore politico, sociale, quindi un vero e proprio capo, non a livello ideale, non a livello astratto, non un maestro spirituale, ma sarebbe stato un vero e proprio re, un regnante. Quindi fondano questi gruppi. Leonard Howell inizia a predicare a West Kingston, Joseph Hibbert a St. Andrew, Archibald Dunkley a Portantonio e Heinz aiutava Joseph Hibbert a St. Andrew. Quindi si formano questi diversi nuclei e proviamo ad immaginare proprio, vediamo proprio anche la picture davanti agli occhi, c'erano dei veri e propri predicatori tra le strade di Kingston o nel countryside, nella verde campagna giamaicana che annunciavano il Cristo, proprio come duemila anni fa, duemila anni prima, era avvenuto con quei primi ebrei che iniziavano a predicare che Gesù Cristo fosse il Messia. Quindi sta avvenendo la stessa cosa, soltanto che ora il contesto non è Israele, non è appunto Gerusalemme, ma è la Giamaica. È questa terra, la terra delle sorgenti, la terra dell'acqua e del legno, la terra afflitta dalla schiavitù, dalla deportazione del razzismo, dalle piantagioni di banana, ma che ora veniva riscattata in un qualcosa di meraviglioso che avrebbe donato proprio alla popolazione giamaicana e poi al mondo intero una forza, una motivazione e un'ispirazione incredibile che continua a contagiare ancora oggi persone ai quattro angoli della terra, il movimento Rastafari. Siamo nella Giamaica dei primissimi anni trenta, Howell, Dunkley, Hibbert, Heinz, questi sono i nomi dei primi patriarchi Rastafari che annunciano proprio la divinità di Ailes Rassiprima. È nato il movimento Rastafari. 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 Rastafari.